Per tre settimane su queste rive ci sono due roulette, una è quella del casino, l'altra è quella del palazzo del cinema, perché anche l'arte è gioco d'azzardo. Stanno lavorando i membri della giuria, Filippo Sacchi, Giuseppe Ungaretti, Sandro De Feo, Enrico Falqui e Fazini. Renoir manovra il nostro trasfocatore, l'obiettivo che ravvicina, ancora un Orso Wells. Nomi che fanno splendere i titoli di testa, Anatole Litvak, Leonid Moghi, con stoppa Camerini. Ma al crepusco Venezia si era messa il suo costume rosso di sera, come nei quadri dei maestri veneziani, costumi di tutto il mondo. Fantastiche delegazioni di ogni paese si intarsiano su aspetti della città. Anatole Litvak Grazie. Grazie.